Quest'oggi ascolterò della musica, così posso dire che le cuffie servono a qualcosa, eh? Come la mettiamo adesso? Ella ragazzi, saluto a tutti, benvenuti con questo nuovo video. Primo vlog del 2019, buon anno! Benvenuti in ritardo, benvenuti comunque. Fatemi starfare lo champagne. Era frizzante. Spero tutto bene. E qua, qua, qua c'è il sole. E oggi è una bella giornata, niente. Ma passiamo alle domande. No, stavo scherzando. Prima devo dirvi un paio di cose. Innanzitutto, partiamo con la questione live. Ho pensato e ho deciso che quest'anno voglio provare a fare un po' più di live del solito. Un po' più di live perché molti giochi che vorrei portare sono giochi che non posso portare come serie delle due. E portarli come serie delle sei non andrebbe bene. Sono un po' troppo particolari. Per cui ho deciso che appunto farò più live e porterò più giochi diversi, più giochi appunto da live. Naturalmente finché non succede qualcosa, le live saranno sempre dalle ore 14 circa. Non posso fare live troppo tardi, non posso fare live troppo presto. Quindi appunto per ora saranno semplicemente delle sostituzioni, i video delle due. Con questo non sto dicendo che tolgo Fortnite perché Fortnite rimarrà la domenica, sempre un quarto, due e mezza. Poi dipende dalle giornate. E tra l'altro parlando di Fortnite voglio portarvi un altro video, un video proprio esterno alla live. Poi vedo come gestirlo. Io parlo proprio di live esterne, quindi di live durante la settimana, che sia qualsiasi giorno. Naturalmente vi pubblico prima l'annuncio in cui appunto vi dico che ci sarà la live. Così avete tempo magari di prepararvi insomma. In caso vi dico anche già, in descrizione trovate il link di Discord. Lì molto spesso parliamo o comunque li annuncio lì. Comunque questo 2019 è iniziato bene. Abbiamo iniziato Super Smash Bros, Infinite Deluxe Brawl Ultimate. Ho visto che vi piace molto e avevo detto che avrei fatto probabilmente dei tornei su Smash Bros in quello. Ora, c'è un piccolo problema. Purtroppo non è possibile fare dei tornei online. È possibile fare dei tornei offline, quindi tipo in cooperativa o connettendo più console. Comunque tutti essendo lì. Ma non posso fare un torneo con voi insomma. L'unica cosa possibile che posso fare sono delle stanze sfida. Da quello che ho visto adesso non ho capito bene come funziona. Però praticamente a turni si entra, c'è una specie diciamo distanza, si entra, si combatte e si esce. Fine. Vabbè. Diciamo che mi sembra una mezza cagata e non saprei nemmeno come portarla se non in live. L'unico problema è che non posso fare delle live per Nintendo Switch. Ringrazio anche Ender che mi sta aiutando a cercare di capire come fare delle live. Purtroppo il mio dispositivo non funziona e finché non trovo un modo diciamo di portare la Switch su computer, non dico tramite emulatore, dico tramite aggeggi vari, appunto che mi facciano vedere quello che vedo sulla Switch, però sul computer non posso portarlo in live. Quindi quando saprò qualcosa vi farò sapere. Tranquilli. Per adesso nessun torneo verrà fatto. Detto questo, sempre rimanendo in tema Smash Bros. e serie delle 6, ho intenzione di cambiare un pochino il sistema delle serie delle 6 perché fino adesso ho sempre portato una serie delle 6 al mese o comunque se per esempio una serie delle 6 finiva il 15 del mese e l'altra serie delle 6 iniziava l'uno del mese dopo. Inizio mese sempre. Ecco, ho intenzione di cambiare questa cosa appunto e iniziare una serie delle 6 quando me la sento, cioè del tipo se una serie delle 6 finisce appunto il 15 di gennaio, la nuova serie delle 6 potrebbe iniziare anche il giorno dopo per dire. Oppure una settimana dopo, due settimane dopo, sempre a dipendenza di quanti video mi sono preparato di quella serie delle 6 e di quanto magari può durare, di quanti impegni ci sono in giro. Comunque non rispetterà più una tabella ma andrà a voglia. Perfetto, detto questo penso che possiamo iniziare a rispondere a qualche domanda del tipo perché Pino è ancora lì? Che cacchio ci fai ancora qua a te Pino? Ah ragazzi tra l'altro, aspetta io ve l'ho detto, queste qua ragazzi erano le luci di Pino e purtroppo si sono fulminate. Purtroppo Pino non vede la luce da un paio di settimane, però ho un'idea. Pino riceverà le sue nuove luci. Siete pronti ragazzi? Sì signor Capitano! Non ho sentito bene! Abbiamo messo i peperoncini perché così scacciano il male, lo esorcizzano. Dicevamo, domande. Giacomo Nazingul, ci ho posto per l'ansia e non sbaglio ho visto un video di YouTube in cui si vedeva la versione italiana di Deltarune perché ho chiesto di Deltarune. E in effetti ho notato che è uscita, quindi a breve aspettatevelo perché uscirà e sarà una serie delle 6. Devo solo informarmi meglio se è uscita completa o solo tipo qualche pezzo perché ho visto che era uscito ma solo qualche pezzo. La domanda è, a proposito non pensi che sia irritante il fatto che esca, esce un gioco e un minuto dopo sulla home di YouTube tutti i boss, boss finale epico finito? Dammi il tempo quantomeno di iniziare il gioco. Ok, allora, sono d'accordo su quello. In realtà rosico parecchio anche per questo e mi dà abbastanza fastidio che molti lo ricevono in anteprima e lo possono portare in anteprima. Purtroppo, se poi vai a vedere quei video, sono tutti video con un sacco di visualizzazioni, o almeno per quanto riguarda quel gioco. Questo perché la gente vuole sapere tutto e lo vuole sapere subito, quindi va subito a cercare il finale, insomma. Purtroppo ora YouTube è diventato una specie di gara, insomma, a chi lo porta prima, perché se lo porti prima hai dei vantaggi, insomma. Ma purtroppo c'è un però, ovvero che per quanto tu possa portarlo anche al day one, ci sarà sempre qualcuno di più grosso che lo porterà al day one, o qualche giorno prima, e ti ruberà le visualizzazioni. E già. Jasky37, cioè posso parla, non è ancora finito Undertale, ti manca un personaggio segreto, non te lo spoiler. PS, lo puoi farlo, lo puoi farlo in live. Se mi dite che c'è un altro personaggio di Undertale, lo possiamo fare in live. Basta che sapete come prenderlo, perché ho girato tutto il gioco e non l'ho trovato, quindi se poi me lo spiegate in live e mi dice, mi confermate che c'è, lo facciamo. Luke Lord, ci posso parlare, qual è il primo gioco di Super Mario che hai giocato? Non mi ricordo, non mi ricordo assolutamente qual è il primo Super Mario, ricordo solo che avevo Windows 95, ancora, e probabilmente era Super Mario Bros. o 1, o 2, o 3, non mi ricordo più. Colin, che tristezza d'albero, perché? Guarda com'è contento, felicissimo. Pino, ti piace? E lui che triste proprio, mamma mia, che persona triste. Sempre Colin, ci posso parlare, ma farai un team di Fortnite oppure i provini per QV? Il team questa, no, il team e questa la vinciamo. E già hai sbagliato il nome del team? Certo, farò dei provini per il team QV, perché servono dei provini, c'è troppa gente che vuole entrare in quel team, e allora è molto richiesto. IamDiego, ci ho posto per là, riuscire a mai capire che non devi metterti le cuffie nei vlog? No, le voglio, sono mie, ok? Se a te non piacciono le cuffie, non le mettere. Pietraia e il sasso, ci ho posto per là, nel caso in cui qualcuno ti menta, tu rosmarino. Uccidiamolo il sonno? Giuseppe Carraro, ci ho posto per là, fa la reazione a questo video. Grazie. Cos'è? No, mi ha tolto... Oddio. Ma chi è questo? Cioè, raga, non vorrei dire, ma era 17 ottobre 2011. Che poi mi ricordo, ci sono certe parti in cui avevo messo la sigla, e tipo... Oh, madonna santa. Esatto. Ancora non sapevo usare Windows Movie Maker, usavo. Stupida intro, maledetta. Non so quanti utenti avrò ucciso con quella sigla. E poi, man mano che andavano avanti, o peggiorava o migliorava, non si capiva niente. Assassin Pig. Cioè, posso sapere quando il gioco di Orem sarà finito? Lo giocherai? Se sì, sarà come serie delle 6 o delle 2? Come serie delle 2, probabilmente. Purtroppo non so che gioco sta facendo, perché mi voglio tenere fuori dagli spoiler. So solo che è in stile RPG, quindi... Va bene. Appunto, molto probabilmente lo farò come serie delle 2, oppure in live. Adesso vediamo. Calmi. P.S. Cosa fa un albero quando si innamora di una pianta? La corteccia. Perfetto, grazie. Con questa cosa bella, io posso terminare qua questo video. Pino, te cosa di... Pino... Ah, Pino! Ma ti sei trovato la ragazza te, Pino? La cortecciata? Pino, ma te non ti vuole nessuno? Ma che c... Che ti caga, Pino? Penso che possiamo... Anzi, prima di terminare il video, vorrei chiedervi una cosa. Avete visto che su YouTube si possono fare delle premiere, si chiamano? Che cosa sono le premiere? Sono praticamente i video che pubblico normalmente, però voi li potete vedere come se fossero delle live. Mettiamo caso, oggi carico questo video e lo faccio come premiere alle 13.30, all'una e mezza. Le persone che sono online alle 13.30 possono andare a vedere questo video in diretta, quindi praticamente lo vedete prima che venga pubblicato, e nel mentre lo guardate potete commentare in live, quindi come se fosse in live, e magari scambiarvi delle idee con altri che lo stanno guardando in quel momento. Non capisco bene se funziona esattamente così, però mi sembra una gran genialata, è bello. Naturalmente poi il video viene caricato e rimane online, quindi se qualcuno se lo vuole rivedere, se lo riguarda, se qualcuno non può guardarlo in live, se lo riguarda. È per questo motivo che stavo pensando di iniziare a pubblicare i video in premiere, adesso mi dovete dire anche voi se vi interessa come cosa o non vi interessa come cosa. Quello che pensavo è pubblicarlo in premiere alle 2, tanto il video delle 2 dura di solito poco, quindi entro alle 2.20, 2.30 è carico e ve lo potete vedere anche dopo. Anzi guardatevelo anche dopo, poi salgono le visualizzazioni e pagano. Oppure non vi interessa un cacchio e facciamo come al solito. Va bene, ragazzi termino qua questo video, è durato come al solito 66 minuti. Io non posso fare altro che salutarvi, ci vediamo a un prossimo video. Vi ricordo che in descrizione trovate il server Discord e basta, poi vabbè c'è Facebook, ma non lo uso. Sì niente, trovate Discord. Però se volete lasciarmi una domanda potete lasciarmi nei commenti, con l'hashtag c'è posta per LAN. Rispondo quasi sempre. E niente, ci vediamo al prossimo mese. Ciao!